ciao a tutti colors e benvenuti in questo nuovo video oggi rispondiamo ad un'altra delle vostre richieste venute fuori dal video I call you che se volete andare a vedere mi lascio nelle schede stiamo parlando della richiesta della mia amica Roberta che saluto ciao Roby che mi è piaciuta molto nonostante sia un tipo di video che io sono poco abituato a fare più che altro perché avrò fino all'ultimo secondo il timore di dimenticare qualcosa stiamo parlando come avete letto da titolo della recensione del gioco Harry Potter o World's Mystery è stato rilasciato il 25 aprile del 2018 ed è disponibile tramite play store in maniera completamente gratuita sia sul sistema android che ios il gioco si ispira come da nome alla saga di Harry Potter tuttavia è ambientato circa una decina di anni prima perché sentiremo o meglio leggeremo uno dei fratelli Weasley dire in un dialogo che il fratellino Ron alias Ronald ha circa otto anni quindi parliamo di prima della venuta di Harry Potter è classificato come un gioco di volo proprio perché la prima cosa che faremo all'inizio del gioco è di creare un personaggio io purtroppo ho difficoltà a fare gli screenshot col mio telefono per cui ringraziamo Roberta per la maggior parte delle foto quindi ci verrà chiesto di creare un personaggio maschio o femmina che sia non ha importanza abbiamo entrambe le possibilità recentemente con uno degli aggiornamenti è possibile aggiungere la barba ai maschietti e il trucco alle femminucce un po forse troppo rigido nel binarismo ma ricordiamoci sempre che si tratta di un gioco per telefono quindi non è che possiamo aspettarci grossi virtuosismi lo studente frequenterà o meglio il termine ultimo è frequentare tutti e sette gli anni di Hogwarts e di sostenere anche gli esami ad oggi non so se il settimo anno si è stato sbloccato perché la mia storia di gioco è stata un po particolare io avevo iniziato a giocare con un personaggio maschile poi a un certo punto sia per il fatto che mi stava scocciando il gioco sia perché mi ero reso conto che il gioco stesso forniva più abbigliamento alle femminucce e ho deciso di continuare con un personaggio femminile ma veniamo agli aspetti assolutamente positivi del gioco che io mi sono appuntato appunto per evitare di dimenticare più dettagli possibili c'è comunque una sorta di girl power di rivincita delle donne perché ad esempio uno delle insegnanti la professoressa Rakepik comunque ha un certo una certa influenza una certa importanza rispetto per esempio al resto del corso del corpo insegnanti di fronte alla stessa Megalanit il nostro migliore amico o migliore amica che cambia a seconda che si crei un personaggio maschile o femminile è un ragazzo barra una ragazza nera che si chiama sempre Rowan non ho capito perché potevano almeno cambiarle il nome tra e l'altrego femminile quello maschile non mi piacciono moltissimo i capelli riservati alla povera Rowan femmina ma va bene tra i personaggi con cui entreremo in contatto ad esempio c'è anche vadea che ha un abbigliamento diciamo così tipicamente arabo quindi c'è una promozione delle diversità in generale abbiamo talks e chi conosce la saga non può dimenticare che è una metamorfomagus quindi può assumere l'aspetto che vuole per tutto il gioco manterrà i capelli rosa in determinate missioni secondarie è possibile addirittura scegliere il proprio orientamento sessuale e quindi decidere se avere appuntamenti con una ragazza o con un ragazzo oppure scegliere addirittura tra una ragazza e un ragazzo nel senso di avere un personaggio bisessuale quindi al momento dell'appuntamento scegliere se uscire con una ragazza o un ragazzo indistintamente mentre nel caso di un personaggio omosessuale ovviamente si sarà proposto solo il nostro stesso sesso avremo il personaggio strambo che quello di liz turtle spero di aver pronunciato bene che tra l'altro anche dei tratti afro quindi nuovamente una promozione delle diversità e la novità a mio parere più interessante e più insolita è stata introdotta con l'ultimo aggiornamento e dell'ultima missione più o meno secondaria che è quella del quidditch finalmente a oltre un anno dal primo rilascio è stato inserito un po di quidditch serio abbiamo proprio la missione relativa al quidditch un nuovo personaggio legato al quidditch che non vi anticipo altrimenti vi dico tutto mentre il personaggio su cui voglio porre l'accento sottolineare più di quello misterioso legato al quidditch se possibile è marfi mcnally o nulli non so bene come si possa pronunciare perché si tratta di un affezionato cronista del quidditch che per chi non lo sapesse è uno sport dei maghi che è un po un misto tra volo sulla scopa calcio e anche un po di baschi marfi oltre a essere un cronista affezionato appunto ha una particolarità che non sempre viene introdotta nei videogiochi che è quella che riguarda anche me è infatti un ragazzo in sedia a rotelle molto intelligente quindi sfata due miti in uno se possibile ossia che i ragazzi in carrozzino non possono essere inseriti in un qualsiasi gruppo in questo caso in un gruppo classe e che sempre chi è in sedia a rotelle non possa essere appunto particolarmente intelligente come vi avevo anticipato in qualche video se volete se volete potrò anche parlarvi della mia esperienza di bambino plus dotato fatemelo sapere qui sotto nei commenti se vi può interessare perché io non vorrei sembrare vanesio però vi assicuro che questa cosa oggetto a volte anche di discriminazione bene io penso più o meno di aver detto tutto se ho destato in qualche maniera il vostro interesse vi ricordo che potrete trovare il gioco nel play store sia che abbiate android sia che abbiate ios se non siete iscritti iscrivetevi al canale attivate la campanella per non perdere alcuno dei miei video e noi ci vediamo al prossimo ciao